Ciao a tutti ragazzi, sono... scusate, let's play in 2019 e oggi siamo qui in Nobite, oggi siamo su Super Mario Bustre, ma quanti episodi sto facendo? Sto iniziando la serie, ma bensì... sto cercando di iniziare... ricordate quando vi faccio vedere le guardie, o meglio, l'ultimo video di questo gioco... che però l'ho fatto... beh, poi ho fatto anche un altro episodio... no, ah, se c'è questo episodio ovviamente... guarda come è solito la... la colpa di Ryzen... come sapete sempre... e il MoVyzen però fa bocca... ...danti così si può non andare... ...danti così si può non andare... ... se così il gioco così ma... ... se così per una battaglia finale c'è Bowser che voleva soltare addosso... e invece non può perchè va talmente lento con Mario vabbè anche Mario va lento quindi non è che se non lo sento a posto però no non ci credo ce l'ho fatta spero una volta la fine buona classe ragazzi lo spero il video bene ragazzi ci siamo allora il prezzo perché devono andare al livello 3 però poi il video ci deve essere avventurato si adesso guardate ragazzi senza luci non ce la faremo mai non c'è nulla non c'è nulla Ooooooooooooo! Voleva salire! Come già non ho la palla! stai facendo il fungo al farse dicendo sì sembra stessa cosa con le nuove ragazzi non tanto per rilassarsi e per la corte ma questa canzone è una cascata di mare siamo a giugno sentite non la parola non la parola ma come un'attrapello ma qui va a fare un attrappato non posso che non posso dire non 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 ok fiori la seconda di storia per il nuovo senso dove dovete andare e tratta 4 mi dico di scrivermi il prossimo video ciao